Se li hai patito troppo, se li hai già visto che cosa, ti può crollare addosso. Se li hai già stata punita per ogni sua distrazione, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie e fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti ed ore. Grazie per la visione!